Presidente Massimo Bitonci, continuano gli sbarchi sulle nostre coste? Per questo motivo la Lega Nord lancia l'allarme. È una cosa che è ripresa, che è ripresa con la primavera e con l'estate. Ormai gli sbarchi sono diventati non solo decine, ma si avviciniamo ai centinaia di sbarchi ormai ogni giorno. Rispetto a quanto era successo con l'intervento del già ministro Maroni, dove si era riusciti a trovare un accordo con alcuni paesi nordafricani per bloccare queste partenze, tanto criticato anche a livello europeo, non solo italiano, dal centro-sinistra, comunque questo governo sta dimostrando di non riuscire assolutamente a contenere gli sbarchi, che sono estremamente aumentati e che devono essere assolutamente bloccati. Noi, lo diciamo da tempo, il ministro Chienge sta sbagliando completamente la sua azione, la sua politica, con le sue butade sull'immigrazione clandestina, chiedendo di cancellare un reato che c'è dappertutto anche in Vaticano, per fare un esempio così vicino a noi, e con poi le uscite sullo YouSoli non sta facendo altro che favorire lo spostamento e la voglia di venire in Italia da parte di una popolazione che ovviamente vive in situazioni di disagio, ma non per questo deve venire per forza in Italia.